Se facciamo un pagamento in banca passeranno 24 ore, col pagamento col codice a barre passano sempre 2-3 giorni, se facciamo un pagamento o in posta o in tabaccheria l'attivazione avviene entro 30 minuti del pagamento, questo è quanto. Ora c'è da lei la modalità, le mandiamo le coordinate di carta, le nostre coordinate sul numero di carta, lei ha fatto un pagamento sul nostro numero di carta, lo visualizziamo nei nostri terminali in tempo reale il pagamento e in tempo reale le mandiamo la poesia, perfetto, lei su questo numero ce l'ha attivo a servizio Whatsapp signore? Sì Mi dispiace se dirò io tramite Whatsapp? No, assolutamente Perfetto, ora le mando il messaggio da parte mia, le scrivo buongiorno Sì, allora, il mio nome è Mi segue il numero di taga? Allora Perfetto Vediamo un attimo Ok 412,30 è il suo importo da pagare Perfetto Perfetto Grazie a tutti.